Mister Di Meo, la partita che aspettavamo più di tutte, ce la portiamo a casa, 2 a 1, 3 punti, è una strada forse un po' più in discesa? Ma tutte le partite sono difficili, oggi è stata una partitaccia, sotto il punto di vista agonistico è stata una partita tosta, come piace a me. Abbiamo vinto lottando fino all'ultima goccia di sudore, come piace a me. Mister, molti hanno detto tra l'Alto Casertano e anche la partita di oggi, che forse abbiamo raccolto molto più di quanto seminato, ma insomma poi alla fine l'importante è portare il risultato a casa e l'abbiamo fatto in entrambi i casi. Alla fine contano, come dico sempre, i gufi che stanno sopra i tetti, lo disse Dagnone e lo ridico adesso, dovete cadere tutti giù, perché la verità è questa, perché ci stanno tutti a dire sempre queste cose qua. Noi stiamo parlando con i numeri, i numeri dicono che noi siamo l'attacco più forte e la difesa più forte del girone, forse anche di più. Questo non voglio dire niente perché parlano i numeri, i numeri dicono questo, siamo una squadra che abbiamo la guerra in testa tutti, come piace a me. Le fighette non mi piacciono a me, a me piace la guerra, la gente che ha la guerra nella testa. Con la guerra si va avanti, senza la guerra non si va a nessuna parte. Una fase coincitata, soprattutto nel finale, mister, che cosa è successo tra le due panchine? Niente di particolare, cose di calcio. Prossima partita, mercoledì, il ritorno di questo ottavo di finale, che partita ci aspetta? Possiamo affrontarlo anche più liberamente dopo questo match, ecco, a mente libera? Andiamo là con la guerra in testa pure là, perché dobbiamo andare a fare risultati. Abbiamo voglia di fare risultati dappertutto, lo stiamo dimostrando sempre. Oggi è stata una bellissima partita, una dedica speciale a questo bel pubblico di Campobasso, che ci ha dato veramente il cuore. Noi ci rispecchiamo in loro e loro si rispecchiano in noi. Questa è la cosa più bella. E poi a tutta la gente che mi ama. Ivano Maselli, amministratore delegato del Campobasso, è arrivata una vittoria. La vittoria, perché era quella che più di tutto era importante, anche se il campionato è ancora lungo. E' arrivata una vittoria. Abbiamo vinto una partita, una partita speciale contro Risernia, però abbiamo ancora nuove partite. Ne abbiamo nuove partite per riuscire a vincere il campionato, quindi non abbiamo fatto nulla, abbiamo vinto semplicemente una partita. Ecco, il campionato è lungo, però diciamo che questo era l'ostacolo più insidioso, tenendo comunque conto delle altre gare contro l'Alto Casertano, contro il Venafro, però lo scoglio più importante era questo. Ogni partita ha un'insidia, è un'insidia e ogni partita è da giocare. Questa era la partita, dal primo giorno era segnata in rosso sui calendari nostri e dell'Isernia. Questa era la sfida, l'abbiamo giocata bene tutte e due le squadre e mi dispiace molto per il campo. Il campo ha penalizzato tantissimo la partita, l'Isernia che doveva farla ne ha subito un po' di più, però è andata bene. Anche quest'oggi il pubblico di Campobasso ha risposto presente, nonostante le limitazioni, altrimenti sarebbero venuti anche in numero maggiore. Noi, i nostri spettatori sono sempre presenti, abbiamo una media sempre di 300-350 spettatori fisso. Speriamo che con le iniziative che faremo per queste ultime quattro partite riusciamo a godercelo un po' di più in casa. Mercoledì, il ritorno dell'ottavo di finale di Coppa Italia, ci arriviamo magari anche più liberi mentalmente dopo la partita di oggi? Ci arriviamo liberi mentalmente, spero di noi, ci arriviamo più tranquilli, abbiamo tolto la partita più impegnativa, ma San Buceto oggi si festeggia e domani si pensa a San Buceto che è una sera squadra. Ciro Quinto, una partita fondamentale, finisce 2-1 per noi, c'è un po' di sollievo dopo questa vittoria? Sì, siamo molto contenti, sapevamo che era importante la partita, di fare risultato, una partita difficile, siamo molto contenti, tendi di aver vinto. È stata una partita complicata, soprattutto a centrocampo, loro si difendevano bene, hanno giocato bene perché l'Iserni ha creato gioco la traversa, però noi come è successo anche con l'Aurora Alto Casertano, poi conta il risultato e questo dice 2-1 campo basso. Sì, sappiamo soffrire, siamo uniti come squadra, sappiamo stare lì, sappiamo che l'Iserni è una grande squadra e ce la siamo giocata, la grande, contenti, dai. Adesso il ritorno dell'ottavo di finale di Coppa Italia, come ci arriviamo a questo match? Carichi, dopo questa vittoria vogliamo andare là a fare risultato, passare il turno perché è un altro obiettivo e andare avanti, pensare partita dopo partita. Raffaele Cavallini, 2-1, il parziale è una partita fondamentale e ce la siamo portate a casa noi. Sì, diciamo che è stata una partita molto combattuta, noi ci tenevamo tanto a fare questa vittoria, alla fine ce l'abbiamo fatta, il gruppo ha reagito alla grande, tutti compatti, abbiamo aspettato il momento giusto e abbiamo fatto due gol. È stata una partita anche e soprattutto difficile, ma poi ovviamente la differenza la fa il punteggio, gli episodi, e noi siamo stati più bravi anche a portarcela a casa in quel senso. Sì, sì, te l'ho detto, siamo stati molto molto cattivi rispetto all'Isernia, è stata una partita molto combattuta, però noi ci tenevamo tanto a fare questa vittoria qui a Isernia per andare avanti nel campionato e poi abbiamo vinto noi. Ecco, il campionato non è ancora finito, ma questa partita era forse quella che più ci spaventava, tra virgolette. No, diciamo che era la prima e la seconda, quindi era una partita molto più dura del campionato, noi ci aspettano altri nove finali, quindi ce la giocheremo alla grande e poi alla fine diciamo la nostra. Mercoledì il ritorno dell'ottavo di finale contro il San Buceto. Sì, mercoledì andiamo là, dobbiamo fare una grande partita anche lì, dobbiamo vincere perché ci teniamo a portare avanti entrambe le cose. Nicola Van Zan, è stata attuale la prima marcatura del match, tre punti fondamentali per questo campionato. Sì, tre punti importantissimi, come ho detto al di là del gol, che sono veramente contentissimo, non lo so descrivere, però avesse segnato un altro sarei stato contento uguale, perché l'importante era vincere, ce lo meritiamo. Siamo stati anche fortunati sicuramente, però da tanti mesi che lavoriamo bene, eravamo solamente a più due, insomma era un peccato continuare a soffrire così tanto dopo un campionato quasi perfetto, insomma, quindi siamo contentissimi per la vittoria e poi per il gol è veramente un sogno, non ci credevo. Ecco, abbiamo superato uno scoglio importante, adesso forse siamo un po' tutti più tranquilli dopo questa vittoria, anche se il campionato è lungo, eh? No, sì, sì, il campionato non è finito oggi, mancano nove partite, abbiamo ancora tantissime squadre forti da affrontare, ci sono insidie in tutte le partite, dobbiamo essere bravi a indirizzarle, come abbiamo sempre fatto verso i nostri binari, perché comunque ogni squadra che affronta il campo basso arriva sempre col coltello in mezzo ai denti, sempre con voglia di dare qualcosa in più, di dimostrare, e quindi dobbiamo stare pronti. Mancano ancora nove battaglie, mercoledì abbiamo il ritorno di Coppa, che è una parità altrettanto importante, quindi cercheremo intanto di andare a San Buceto e vincere. Ecco, mercoledì appunto il ritorno col San Buceto, che match ci aspetta, come ci arriviamo? Beh, loro sono un'ottima squadra, come abbiamo visto mercoledì, sono comunque una squadra organizzata, una squadra che ha un'idea di gioco, sicuramente sarà una parità difficile, anche perché loro hanno un campo un po' più piccolo rispetto al nostro, sono abituati, quindi sicuramente ce la metteranno tutta per passare il turno, noi vogliamo vincere, come ho detto vogliamo andare avanti anche in Coppa, faremo di tutto per portare la partita a casa.